Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Durante i funerali di Silvio Berlusconi, svoltisi il 14 giugno, è stata presente anche Valeria Marini, suscitando diverse reazioni contrastanti. La showgirl ha deciso di condividere un video su Instagram durante le esequie dell'ex premier e ex presidente del Milan, suscitando critiche da parte di alcuni. Non si sa ancora se Marini risponderà alle critiche nelle prossime ore. Quello che doveva essere un momento di grande dolore si è trasformato in un vortice di polemiche. Durante i funerali, Valeria Marini ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, dando vita a qualcosa che alcuni hanno ritenuto poco rispettoso. È importante sottolineare che alcuni dei suoi fan hanno elogiato la sua sensibilità e il suo grande cuore, mentre altri hanno evidenziato un aspetto meno losindiero. Il sito Leggo ha riportato gli attacchi subiti dall'ex Bagaglino mentre i funerali di Silvio Berlusconi erano appena iniziati. Valeria Marini ha deciso di registrare un video con il suo cellulare e di condividerlo sul suo profilo Instagram ufficiale. Tuttavia, non tutti hanno accettato questa sua decisione. Sebbene le sue intenzioni fossero sicuramente positive, ci sono stati coloro che hanno analizzato l'aspetto negativo di tale gesto. Valeria Marini ha scelto come didascalia le parole grazie Silvio e l'hashtag Silvio Berlusconi Valeria Marini Baci Stellari. Alcuni hanno criticato il suo gesto, affermando, ma riesci a non riprendere qualcosa con il cellulare anche a un funerale? Riprendere con il cellulare non è carino. Altri hanno semplicemente salutato per l'ultima volta Berlusconi, mentre un utente ha lodato la donna dicendo, brava Valeria, dimostri sempre un grande cuore. Una preghiera per il nostro Silvio. Certo, l'hashtag Baci Stellari Lamarini se lo poteva anche risparmiare in un contesto come questo. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella. Per noi è importante. Resta sempre aggiornato.